vorrei subito iniziare dicendoti una cosa grazie grazie per tutto quello che hai fatto grazie perché io credo che tu abbia fatto veramente tanto non soltanto per quanto riguarda la parte sportiva la parte quella che la parte del campo che quello penso che un po sotto gli occhi di tutti ma soprattutto grazie per quello che hai fatto anche con noi come società nel in questo percorso che è iniziato nella stagione 2013 14 col tuo arrivo a gennaio in un momento di grande difficoltà e che tu hai permesso a questa società di crescere grazie proprio per per tutto quello che tu hai fatto nell'aiuto che ci hai dato nell'aiuto che ci hai dato anche nella crescita anche dei ragazzi nel far capire il comportamento di un grande vero professionista quale tu sei è chiaro che questo può essere un dispiacere da parte nostra però io penso che tante volte bisogna anche fare un po come società il passo un po più in là non dobbiamo pensare soltanto espressamente all'aspetto tecnico alle esigenze a quello che può avere necessità la squadra perché credo che tante volte deve esserci anche un chiamiamo un fattore umano e questo penso che da noi nel nostro gruppo a cominciare dalla nostra proprietà da chi lavora all'interno della società e in questi anni abbiamo sempre dimostrato che con i nostri giocatori c'è un rapporto speciale. Le porte del Sassuolo sono sempre aperte e ti auguriamo una grande fortuna e visto anche le tue capacità di diventare un grande mister per cui sperando che poi magari un domani tu possa ritornare in questo gruppo in questa famiglia in bocca al lupo. Grazie. Ho sempre detto che volevo lasciare un segno nel calcio al di là del campo ma fuori e le sue parole oggi mi rendono veramente uno degli uomini più felici in questo momento direttore perché io in questa società mi sono sentito veramente a casa e questa era una gran bella famiglia veramente. Per me oggi lasciare non è facile però il desiderio e l'ambizione di fare quello che sto andando a fare era troppo forte come io ho palesato a lei quindi ci tenevo a ringraziare anzi io voi in primis dottor Squinzi, lei, il direttore Guido Angelozzi e il mister che mi state dando comunque una possibilità che mi rendo conto a metà stagione non è semplice però come ha detto lei lei prevalsa il fattore umano, un fattore umano che qui ho sempre dal primo giorno visto che c'era qualcosa di diverso rispetto ad altre società. Io non ho girato tante società però si sentono tante cose in giro ma quello che si sente qui il calore proprio tra dirigenti, staff, fisioterapisti, preparatori a 360 gradi è un'alchimia fantastica. Io veramente lascio in questo momento mi sento di dire che lascio casa e ci tenevo a ringraziarla pubblicamente anche perché veramente mi sta dando una possibilità che non è da tutti. La società in questione è il Guangzhou, la città sarà una novità per me, sono stato in Cina due volte ma per tournée estive con le mie vecchie società con cui ho giocato. Mi sono preparato più che altro nell'ultimo periodo perché poi ero troppo concentrato a far bene qui fino agli ultimi giorni col Sassuolo quindi sarà come si dice che veramente hanno vita nuova per me. Io ho vissuto talmente poco mio fratello che non sono uno di quelli che dice non voglio vedere più i miei parenti perché la vita ci ha divisi già da giovanissimi e quindi il fatto di ritornare a stare insieme è una cosa che non accadeva da tantissimi e tantissimi anni quindi per me non vedo l'ora di iniziare al di là di Fabio proprio questa nuova avventura che avrei voluto fare in futuro e mi è stata data una possibilità nell'immediato e quindi sono carico per l'avventura. Il mio compito sarà quello di assistere comunque Fabio a 360 gradi come un collaboratore tecnico al di là che lì c'è la possibilità anche di poter allenare la squadra delle riserve sono i giocatori che giocano un po' meno durante il campionato e quindi è un lavoro già abbastanza full immersion per il sottoscritto. Sostituire Paolo sicuramente non è una cosa facile perché è abbastanza complicato. Noi in questo momento in queste ultime partite abbiamo avuto modo anche di valutare Goldaniga che si è espresso sicuramente su di buoni livelli. In questi giorni faremo un po' le valutazioni anche con il mister che gli abbiamo dato la possibilità di poter valutare un po' da vicino il valore dei nostri ragazzi, il valore della squadra per cercare di capire in che modo dobbiamo intervenire. Questo non riguarda soltanto la sostituzione di Paolo ma riguarda un po' anche l'inserimento di altri giocatori. Per cui penso che proprio dalla prossima settimana, dalla partita dopo il Genoa ci troveremo e faremo un po' il punto della situazione con il mister e con il responsabile dell'area sportiva Guido Angelozzi per cercare di capire gli interventi che dovremmo andare a fare. A giugno è stato acquistato un difensore che era Goldaniga che sulla carta doveva essere comunque un ragazzo che doveva far parte del gruppo magari e non avere tanta continuità rispetto a quelli che magari c'erano. Però vi posso garantire che in queste tre partite che ha giocato ho visto un giocatore affidabilissimo è un giocatore che comunque ha delle qualità, non a caso comunque è un giocatore che ha giocato già in altri club nonostante ciò è giovanissimo. Quindi io più che concentrarmi sul nome come diceva il direttore oggi darei ancora fiducia a Edo con la speranza che poi possa far passare la voglia di comprare un difensore della società. Sarà una sensazione sicuramente strana. Ad oggi posso garantirvi che non mi mancherà il campo perché è stata una decisione mia, una scelta mia quella di lasciare. Ma la cosa che mi mancherà sicuramente tanto sarà il vivere i miei compagni che in questo caso veramente lascio dei ragazzi fantastici e per me quello sarà duro sicuramente. Non è una questione sportiva ma è una questione proprio di ambiente di spogliatoio. Ma il momento più bello posso dire proprio senza ombra di dubbio quella salvezza che è avvenuta quando sono arrivato perché comunque c'erano stati dei disagi in quella stagione. Pensare di salvarsi in quel modo è addirittura con una giornata d'anticipo era veramente una cosa quasi impossibile. Quindi metto quello in primis. Il momento magari meno bello è stato quando siamo stati eliminati dall'Europa League perché comunque alla fine per troppi e troppi infortuni traumatici abbiamo visto la nostra squadra decimata e non abbiamo potuto giocare la competizione come credo sia era giusto fare. Quindi questi sono i momenti diciamo che mi hanno segnato molto più a Sassuolo. Il mio contratto col Sassuolo fatto a gennaio 2014 quando il Sassuolo aveva 17 punti in classifica c'era un premio che prevedeva la qualificazione in Europa League. Ma non è un premio messo tanto per l'ambizione della società è stata sempre quella già dai primi giorni che sono stato contattato. Non è stata una cosa avvenuta per caso quella qualificazione quindi questa crescita così da parte del Sassuolo è una cosa programmata e quindi il progetto era veramente convincente a 360 gradi. Poi i fatti dicono che è andato a buon fine quindi ho creduto in una loro hanno creduto in me io ho creduto in loro è nato questo matrimonio che è veramente stato fantastico. La fotografia sarà le lacrime dei miei compagni che ho visto pochissime volte negli addi al calcio dei giocatori. Questa è una cosa che non veramente porterò dentro di me per tanto perché il calcio finisce ma poi la vita continua e vedere piangere i compagni di squadra non è da poco. Io spero di aver lasciato una cosa ai ragazzi che ho incontrato sulla mia strada. Io sono stato sempre quello che veniva al campo con la voglia di venire come quando sei bambino e vai alla scuola calcio. Io dico che smetto con più passione di quando ho iniziato questo perché ho veramente amato questo sport. Non mi è mai pesato venire a fare un allenamento, mai pesato fare una doppia seduta, mai pesato fare un ritiro precampionato, mai pesato fare una trasferta e questa credo sia stata anche la mia forza che mi ha portato fino ai 36 anni e mezzo, quasi 37, a continuare a giocare a questi livelli. Io spero di aver lasciato questo a chi ha avuto il piacere di fare questo viaggio con me. Logicamente numericamente parlando è impossibile fare un paragone con altre realtà però ho trovato tanto affetto e anche ieri ho visto piangere delle persone e quindi le lacrime non sono mai versate a caso, c'è sempre un qualcosa dietro. Ma la cosa che ringrazierò sempre i tifosi del Sassuolo è stata che loro hanno capito che io avevo un filo con Napoli che purtroppo era impossibile staccare e loro questo l'hanno accettato e questa è stata la cosa che mi ha reso più felice. Mi hanno sempre voluto bene perché ero comunque un giocatore del Sassuolo e hanno capito che se anche a volte il mio cuore era da tifoso verso il Napoli, non hanno mai creato problemi, hanno sempre accettato questo anche quando sono stato comunque omaggiato in passato di cori attestati di stima al Sassuolo e mi hanno visto sotto la curva, avrebbero potuto dire magari tante cose invece hanno capito che il mio legame era forte e questo l'hanno sempre rispettato quindi un grazie va anche per questo a loro. Domenica incontrerò un allenatore che ho stimato tantissimo e uno di quelli che mi ha acceso la lampadina di voler fare questo un domani quindi al di là che ho un rapporto eccezionale con lui e il suo staff è stato un esempio che spero di seguire anche in futuro. Per quanto riguarda il giocatore più forte del Sassuolo oggi mi fa una domanda difficile da rispondere però io devo mettere per forza in cima alla lista il buon Capitano Magnanelli perché è stato un esempio, è un ragazzo che ha dei valori, ha dei principi e quindi metto lui al di là del giocatore che non si discute però ho conosciuto veramente un ragazzo, un capitano che merita tutto l'affetto e la stima di questo ambiente. Grazie a tutti ragazzi, grazie veramente.